Ciao, oggi voglio parlarvi di altre importanti attività dell'ente bilaterale del turismo. Al momento abbiamo due progetti molto importanti dedicati al turismo e cultura e turismo d'accoglienza, finanziati dal Fondo Sociale Europeo e promossi dalla Regione Toscana. All'interno dei due progetti, Welcome e Ila, potrai avere un ventaglio, un'offerta formativa molto variegata. Peraltro sono percorsi di qualifica, di 900 e 600 ore, con riconoscimento finale delle competenze e percorsi di certificazione di impresa. Ti invito a controllare il nostro sito perché a breve promuoveremo sempre all'interno dei progetti dei percorsi di creazione di impresa, Under e Over 30. percorsi estremamente importanti, riconosciuti a livello regionale e con la possibilità di certificare le proprie competenze. Non perdere queste occasioni, il catalogo della Regione Toscana è veramente ricco di opportunità e l'ente bilaterale ti aiuterà a accoglierle. Ma entriamo più nel dettaglio delle qualifiche e dei percorsi di certificazione di competenza che potrai trovare. Al momento è già partito un percorso di qualifica per diventare addetto al ricevimento, con alte opportunità occupazionali. Sono ancora disponibili i percorsi per diventare tecnico di progettazione e organizzazione di eventi congressuali, fiere e congressi, tecnico di progettazione e processi di realizzazione di prodotti e messaggi comunicativi, addetto all'organizzazione del processo di lavorazione grafica e multimediale, percorsi estremamente innovativi, importanti per una crescita competitiva nel settore turismo. Altri percorsi disponibili sono il tecnico delle attività di viazione e gestione di attività ricreative, culturali e del tempo libero e il tecnico di allestimento di vetrine e display. Vuoi saperne di più? Scrivici a formazione chiocciola e btt.it. Grazie a tutti!